Musica Salve a tutti, noi facciamo parte della squadra del Cus Cus Basket Catania quindi appunto giochiamo a basket, a livello agonistico facciamo parte del campionato di serie B nazionale e niente, ci troviamo qui al campo, al cimitero, campo di Mascaluscia perché ovviamente le strutture comunque sono chiuse quindi comunque Tomo tornerà anch'io ad allenarci e abbiamo soffredito di questo bello spazio messo a disposizione dal comune io sono di Mascaluscia, specifico, e devo dire che è la prima volta che ci alleniamo qui ed è veramente un bel campo, cioè ottimizzare uno spazio del genere della società è stata una gran bella idea un'altra cosa è che hanno reso vivo lo spazio del cimitero, questa è veramente una cosa geniale nel senso che questo spazio è diventato pieno di vita già da prima la gente magari si allenava, anche io qualche volta mi sono allenato così intorno a questo spazio però da quando l'hanno sistemato direi che la situazione è migliorata molto soprattutto per Nengarrozzina, diciamo che questo spazio è uno dei pochi accessibili per allenarsi perché è protetto dalle macchine, è piano, riusciamo a scorrere a velocità e riusciamo a farci i nostri allenamenti abbastanza precisi senza mettere tanti chili sì sì, ecco, la cosa difficile è stata ritornare ad allenarsi dopo due mesi di arresti domiciliari a mangiare come i pazzi adesso ci rimettiamo in forma e speriamo il prossimo campionato di essere ancora più forti dell'anno scorso ovviamente niente, occuperemo questo spazio per le prossime settimane quindi ecco, lo diciamo tranquillamente al comune di Mascoluccia, ai cittadini di Mascoluccia ci troverete qui tutte le mattine, mi dispiace no, come io è la prima volta che vengo qui in un ultimo posto, bello come ha detto il compagno molto buono perché c'è sia il posteggio delle macchine anche vicino e come la vista abbastanza... ma proprio scorrevole infatti molto scorrevole come vista nel tutto ci stiamo trovando abbastanza bene niente, grazie ciò, facciamo un giro insieme facciamoci un giro insieme non ci dobbiamo fare cosa un giro dopo le salite non ci dobbiamo fare cosa un giro insieme non ci dobbiamo fare cosa un giro insieme Se ci volete seguire sulla pagina Facebook Cus Cus Basket Catania, noi dall'anno prossimo Iniziamo il nostro ottavo campionato e ci farà più piacere. Magari un po' di tifo non guasta mai, vi aspettiamo. Alla prossima.